Come ha visto il risultato delle primarie? Beh, è una grande prova di democrazia, una bella manifestazione di partecipazione, di concorrenza e, debo dire, una bella vittoria di Bersani. Cambia qualcosa sulle alleanze adesso con Bersani? No, ma Bersani ha scelto, mi sembra coerentemente, l'alleanza con Vendola. Noi stiamo organizzando un'area di ricostruzione del Paese, partendo dall'agenda Monti e da quello che si è fatto in questi mesi, per cui con grande rispetto reciproco.